Dal consiglio comunale di Fermo che il dottor Catalini Gian Battista sia un uomo di grandi passioni non c'è dubbio sia nella professione di chirurgo in diversi ospedali dove ha ottenuto attestate di benemerenza per meriti acquisiti nella carriera e del grande apprezzamento riscosso tra i suoi pazienti provenienti da tutte le marche e da fuori regione che in quella di consigliere comunale di opposizione che qui ascoltiamo in questa appassionata Ecco, dottor Catalini che mi è piaciuto il suo intervento qui come consigliere di opposizione che ovviamente essendo chirurgo, essendo un ambientalista che ama la pulizia e ama l'ambiente ama una sanificazione dell'ambiente quindi credo che questo sia il tema centrale che voglia approntare dottor Catalini. Grazie, sì assolutamente, più che da consigliere, da medico mi devo occupare della salute delle persone e quindi dell'ambiente, è una questione a me cara e lo è stata cara fin dall'inizio, fin dall'inizio del mio mandato, fin dall'inizio del mio mandato ho avuto delle segnalazioni ma non servivano perché era evidente di un male odore che tutta la vallata dell'Ete da Salvano fino a su verso Grotta Azzolina e c'erano dei odori veramente nauseabondi e quindi ci siamo chiesti perché erano legati alla discarica di San Biagio. Allora normalmente ho accennato prima in consiglio che un compost ben prodotto non dovrebbe dare cattivo odore, se ciò avviene abbiamo chiesto perché. Noi ci siamo impegnati molto sulla differenziata, i cittadini stanno facendo un bel lavoro sulla differenziata, è un segno di civiltà sulla differenziata e quindi vorremmo che questo lavoro fatto nella raccolta, abbiamo fatto le isole ecologiche, corrisponda poi anche a un risultato efficace ed efficiente da parte della Sita. Ma questo non è nuovo sull'aspetto perché ho accennato prima in consiglio, pur essendo assento presentato all'epoca una mozione per le biomasse ed è stata votata all'unanimità perché in quel caso si parlava di nanoparticelle, le nanoparticelle erano una cosa assolutamente terribile. Questo mio volere fare attenzione alla salute delle persone, ma in ogni contesto lavorativo, per esempio nel contesto ospedaliero ha fatto sì che sono nate anche delle associazioni di persone che hanno capito, dei comitati che hanno capito che uno lo fa veramente col cuore queste situazioni, uno si sta occupando e quindi pur riconoscendo al sindaco notevole impegno su altri aspetti, sul discorso ambientale e in particolar modo sulla Sita dove già dal tempo della campagna elettorale abbiamo trovato documenti segretati e quant'altro, non abbiamo avuto soddisfazione. E il discorso di aver ricordato di Piazza Pulita che normalmente quando c'è un cambio di amministrazione perché il sindaco è responsabile politico, è lui che deve dare un'indicazione politica, i responsabili di CdA sono responsabili tecnici e noi abbiamo chiesto di rispondere a delle domande, siamo dovuti arrivare a delle interrogazioni, visti gli ultimi articoli con il motto vero-falso, tipo lascio raddoppia, cioè è vero o non è vero, è un pericolo o non è un pericolo, puzza perché puzza, si può migliorare o altro. Quindi aspettiamo adesso delle risposte concrete o da una parte o dall'altra.